è la Milano Music Week, appunto a Milano e ne parliamo con il presidente Enzo Mazza della FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana. Grazie Presidente di essere con noi. Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Allora, Milano Music Week è ancora una volta protagonista alla musica, ma tante tante persone sono presenti a questa lunga settimana, concerti, eventi e poi finisca lei, aggiunga lei, più chi ne ha più ne metta. Beh, sicuramente tanti panel tecnici che penso siano uno degli aspetti interessanti. Questa è una settimana che per noi è importante non solo dal punto di vista musicale, che chiaramente fa in modo che chi vuole seguire degli artisti, ci sono tanti concerti, il programma, non sto neanche elencarlo, ma vi dico solo che si apre con Bocelli, and Family in Piazza del Duomo, un evento straordinario, e però poi tantissimi eventi musicali. C'è anche Tiziano Ferro. Tiziano Ferro c'è addirittura l'anteprima. L'anteprima presenta l'album, come no? Siamo sempre sul pezzo, come si dice. Poi ci sono tantissimi eventi showcase di artisti, quindi per il pubblico che assiste ai concerti c'è tantissimo spazio, grandi eventi, piccoli eventi, c'è in particolare anche la co-conduzione, diciamola così, di questa settimana dal punto di vista artistico con la pesce di Martino, che stanno mettendo a punto diversi panel di incontri con artisti, anche un concerto straordinario per la fine della week. E poi, come dicevo, tanti panel tecnici che per noi, soprattutto come Fimi, sono importanti perché mettono a confronto operatori del settore su tante novità e soprattutto su tanti aspetti di questa industria che è in costante evoluzione. E anche verso l'estero. Ne parlavamo nel fuori onda, ci sono due panne, una addirittura da volare al 2023, 50 anni di musica all'estero. E poi il futuro dell'intendenzizzazione della musica italiana, le prospettive. Questo per far capire che la musica italiana non è più locale nella nostra bella Italia, ma si è espansa in tutto il mondo. Anche qui a Londra ne siamo consapevoli da tantissimi artisti che vengono a fare i concerti qua a Londra. Sicuramente con l'evoluzione tecnologica e le prospettive e le opportunità che sono state date particolari dalla facilità con la quale oggi è possibile raggiungere pubblici a livello globale grazie alle tecnologie. Abbiamo visto il successo dei Maneskin, abbiamo visto grandi successi internazionali di artisti anche in settori diversi, da quelli del pop, da quelli della musica tradizionale italiana, diciamo che ha avuto successo il bel canto negli anni passati. Questo vuol dire che l'Italia, che comunque gode il decimo mercato mondiale della musica, gode anche di grandi talenti, ha davanti a sé delle possibilità in più rispetto a quelle che erano le possibilità che hanno avuto gli artisti del passato. Io penso che siamo di fronte a qualcosa che potrebbe cambiare anche la stessa struttura artistica del settore. Ecco, invece la musica nei social, i giovani che si sono avvicinati tantissimo alla musica, anche sui classici, devo dire, anche una riscoperta dei classici della nostra musica italiana. Come la vedi con questa musica che avanza sui social, TikTok, Twitch, insomma, questa nuova, nuove pagine di cui la musica ne fa parte? Beh, in questo momento sicuramente siamo in una fase, la fase, diciamo, conclamata dell'esplosione di TikTok e dei tantissimi ragazzi che attraverso questa app non solo conoscono la musica attuale, ma, come stavi dicendo anche tu, riscoprono anche artisti del passato, artisti di catalogo e si trovano davanti a delle novità che in realtà sono dei grandi classici, che però rivisitati oppure riproposti grazie anche all'effetto virale che ha una piattaforma come TikTok, ma che poi si lega anche a tutto quello che è l'ecosistema dello streaming, fa sì che anche altri successi tornino ad avere una nuova vita e soprattutto producano anche nuove opportunità per gli artisti che li hanno scritti e per le case discografiche che li hanno prodotti. Senta Presidente, volevo fare una domanda perché proprio oggi abbiamo pubblicato un articolo, credo a mio avviso interessante, sulla crescita quasi esponenziale delle etichette indipendenti nel Regno Unito. Si parla che nel 2021 erano il 26.9%, sono arrivati, leggo testualmente, al 29%, ovviamente sto parlando del Regno Unito, e le etichette indipendenti costituiscono oltre il 40% delle vendite degli album nel Regno Unito. In Italia? Ma in Italia le etichette indipendenti sono un segmento forte, anche da noi rappresentano a seconda dei segmenti una quota rilevante del mercato italiano. Abbiamo visto grandissimi successi emergere anche dalle etichette indipendenti, per cui siamo assolutamente nel trend britannico, da quello che vedo anche dai numeri che pubblichiamo sul mercato italiano, soprattutto in alcuni segmenti, ricordiamo per esempio il grande successo che ha avuto l'industria indipendente italiana nel settore della dance, e comunque anche oggi abbiamo dei successi di recente, noi come Fimi abbiamo fatto questo evento negli Stati Uniti, Heat Week, e abbiamo portato degli artisti, tra cui c'è Radio Dato, che è la massima espressione di una grande etichetta indipendente come la di Rosnello, quindi un successo internazionale di un artista che tutti noi abbiamo avuto il piacere di vedere a Sanremo, vincere Sanremo con una canzone che credo rimarrà nella storia del festival e che ha avuto poi la possibilità di esibirsi in un turno in Stati Uniti grazie a un'operazione coordinata tra Fimi e Heat Week e ICE, l'Istituto per il Commercio Estero. Certo, mi fa piacere che questi dati scollivano bene anche con quelli italiani, quindi viva le etichette indipendenti. Quindi una Milano Music Wiki che ancora una volta non parla appunto solo di musica, ma di tante attività collaterali. Poi se non ricordo male c'è un panel tra Mogol e il figlio di Mogol. È bello queste due generazioni messe a confronto. Cosa potrebbe uscire fuori, Presidente? Ma in realtà ci sono tanti panel anche proprio legati al mondo della scrittura, al mondo della scrittura artistica, al mondo della scrittura autorale che fanno sempre parte un po' della nostra vita. E questo penso che sia anche un momento in cui le diverse generazioni, come sapete, si affrontano davanti anche a modalità diverse di scrittura. Pensate che con La Pesce di Martino faranno un panel addirittura su come è cambiata la scrittura in relazione a cose come il sesso all'interno della musica italiana. Dall'inizio, diciamo, dai grandi autori e i rapper di oggi, come potete immaginare, l'argomento viene trattato in maniera molto diversa. C'era una censura in passato che non si poteva dire e poi piano piano, insomma, anche il bugal, le parole si sono evoluti. E quindi questo porta comunque a fare un'analisi e a scoprire anche nuovi modi di raggiungere il pubblico, soprattutto il pubblico della generazione Z. Allora c'è una domanda e poi la lascio, presidente, di Nicola da Liverpool. Io sono un artista italiano e per far conoscere la mia musica sono dovuto venire in Inghilterra a fare il basker. In Italia com'è la situazione di questi giovani che suonano nelle strade? Perché qui in Inghilterra, come ben saprà, ci sono stati tanti, ci sono italiani, ma tanti anche da tutto il mondo, che magari da un angolo di strada poi vanno su un grande palco. Ed Sheeran è uno di questi, per esempio. Ecco, in Italia com'è la situazione dei basker? Grazie intanto al nostro ascoltatore. Allora, in Italia c'è addirittura una proposta di legge per la tutela all'interno della norma in più generale decreto sullo spettacolo. Esiste da qualche tempo e credo che prima o poi vedrà la luce perché anche qui si è compreso che questa è una delle aree da cui si possono rilevare nuovi talenti. Il Comune di Milano, ad esempio, tanto per citare qualcosa che è legato alla Milano-Miswick di cui parliamo, il Comune di Milano ha creato da tempo dei sostegni e messo a disposizione delle aree, mi ricordo credo anche quest'estate, delle aree all'interno per esempio dei mezzanini della metropolitana per dare la possibilità a questi artisti di esibirsi. Quindi uno spazio gratuito, spazi delimitati con delle autorizzazioni date dal Comune proprio per favorire questo tipo di attività. Conclusione, ha parlato del Comune di Milano, c'è anche il Sindaco Sala che sarà insieme a lei e agli altri alla inaugurazione della Milano Music Week. Presidente, grazie di questo intervento breve ma credo intenso, abbiamo toccato i punti fondamentali. Noi ci vediamo alla Milano Music Week perché non posso fare almeno di non tornare anche quest'anno. Welcome back e grazie per essere alla Music Week e un saluto a tutti gli amici di London One Radio. Grazie ancora e buon lavoro, grazie. E noi allora continuiamo, sappiamo, Milano Music Week e continuiamo con la musica di London One Radio. State con noi perché questa è una prima intervista colloquio, chiacchierata come ci piace a noi, poi ce ne saranno altre sempre sulla Milano Music Week perché chi fa il nostro mestiere, ma anche chi ama la musica, è una settimana molto importante. Stay tuned!